Nelle prime ore di questa mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sei persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata ai danni di operatori economici della zona. Il provvedimento si basa sulle risultanze investigative acquisite dai carabinieri della Compagnia di Bagheria nell'ambito dell'indagine denominata Legame che ha permesso di accertare l'appartenenza di alcuni degli arrestati all'organizzazione criminale Cosa Nostra e di ricostruire episodi estorsivi commessi dei suoi affiliati ai danni di operatori economici del territorio di Bagheria. Le indagini sviluppate mediante attività tecnica, servizi di osservazione, pedinamento e controllo e con il supporto delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che in passato avevano occupato ruoli apicali nel mandamento di Bagheria, hanno permesso di cristallizzare l'appartenenza di alcuni degli odierni arrestati alla mafia di Bagheria, sempre capace di riorganizzarsi dopo ogni operazione di polizia. Tra questi figura Paolo Liga, nipote di Giuseppe Scaduto, ritenuto capo del mandamento mafioso di Bagheria, arrestato lo scorso mese di ottobre nell'ambito dell'operazione Nuova Alba, condotta sempre dai carabinieri di Bagheria. Liga era costantemente in contatto diretto con i vertici del mandamento, ne custodiva e gestiva l'arsenale unitamente ad altri indagati, tra cui Salvatore Farina, arsenale composto da pistole, fucili e mitragliette con matricola brasa, nonché aveva la funzione di agevolare i contatti con Cosa Nostra palermitana e trapanese, compreso il boss latitante Matteo Messina Denaro. Lo stesso Liga si adoperava nella gestione diretta delle attività estorsive, coordinando costantemente le attività illecite degli altri affiliati arrestati nell'operazione, i fratelli Claudio e Riccardo De Lisi, a lui gerarchicamente sottoposti. In particolare, le attività investigative hanno consentito di individuare i responsabili di un'estorsione commessa a partire dall'aprile 2014 e perdurata fino a tutto il 2016, ai danni del titolare di una società operante nel settore della fornitura di servizi di sicurezza per locali notturni della zona. Tra questi figurano Giuseppe Sansone e Rosaria Maria Liga, sorella di Paolo e nipote del capomandamento Giuseppe Scaduto. La donna partecipava attivamente alla raccolta illecita del denaro, destinato in quel momento anche al sovvenzionamento della latitanza del fratello Paolo Liga, sottrattosi nel novembre del 2015 alla cattura in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito dell'indagine Reset 2. Le risultanze investigative più recenti hanno permesso inoltre di definire i profili di irresponsabilità dello stesso Paolo Liga e dei fratelli dell'ISI nella commissione di un'estorsione ai danni di un intermediario finanziario di bagheria, costretto a cedere indebitamente alla propria autovettura a parziale soddisfazione della illegittima pretesa di 50.000 euro avanzata dai responsabili del delitto. Per l'esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati circa 60 carabinieri, con l'ausilio di unità cinofile per la ricerca di armi ed esplosivi nonché di un elicottero del nono nucleo elicotteri di Palermo.